Musica Tanta buona per tutti ragazzi con Mr.Ru che vi parla e bentornati in questo nuovo particolare video un po' diverso dal solito Perché andiamo a parlare delle cause di morte di Rainbow Six Siege Infatti su Twitter la pagina ufficiale di Rainbow Six ha pubblicato questa immagine molto molto interessante Di cui appunto ci va a mostrare tutte le percentuali di morte che noi facciamo appunto in gioco su Rainbow Six E ho deciso di fare questo video perché quando l'ho visto ho detto wow ma che figata non mi aspettavo queste percentuali Quindi ho deciso di condividere con voi nel caso in cui vi fosse sfuggita questa immagine Appunto di condividere con voi queste cause di morte che noi facciamo su Rainbow Six Perché ci sono come vedete delle percentuali che io sinceramente non mi aspettavo Quindi sarà un video molto breve molto diverso dal solito ecco però mi andava di farlo spero che vi piace anche a voi Se vi piace ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace commentate e condividete il video Partiamo quindi con la percentuale più alta quella o anche più ovvia che sono i proiettili Ballets con l'86,70% di morti quindi ragazzi l'86% delle volte noi moriamo con i proiettili questo mi sembra abbastanza ovvio La seconda causa di morte più probabile invece con un drastico calo al 5,06% è la morte di insanguinamento Non so come tradurla comunque la morte da ferimento cioè quando noi siamo in ferimento e moriamo Perché nessun nemico cioè nessun alleato ci rianima Con il 4,94% invece ci sono le morti causate dai danni esplosivi che possono essere granate Possono essere penso anche sicuramente le cariche di termite Per esempio quando il bandit fa il gioco non fa in tempo a spostarsi E viene ucciso dalla carica di termite, dalle granate in patto, dalle cariche di arruzioni Comunque tutti questi esplosivi ovviamente fanno parte di questo 4,94% In quarta posizione invece si abbassa ancora di più la percentuale perché passiamo dall'1,87% con le uccisioni da accoltellamento Infatti le morti da accoltellamento non le vediamo tutti i giorni in tutti i game Le possiamo vedere per esempio quando un nemico è in ferimento e le andiamo a uccidere appunto a finire con un coltello per non perdere le munizioni Ovviamente se abbiamo la possibilità adesso non abbiamo nessun nemico contro Qua ragazzi la quinta posizione vi devo dire la verità non me l'aspettavo per niente perché abbiamo le interrogazioni di cavera con lo 0,73% Dovo dire che sono rimasto molto molto perplesso Fatemi sapere se anche voi vi aspettavate qualcosina di più per le interrogazioni di cavera Andiamo avanti perché infatti in sesta posizione troviamo le smoke di smoke appunto Le granate tossiche di smoke che occupano solo il 0,31% Una percentuale veramente bassissima infatti si può capire perché infatti dalle granate tossiche dello smoke si può fuggire Quindi non è facilissimo fare una kill con le granate dello smoke Settima posizione invece con lo 0,19% le uccisioni con il bandit Con per esempio o con il cavo elettrico o con le barricate elettriche del bandit Con lo shockwire non mi viene la traduzione in italiano però shockwire avete capito che si tratta comunque dell'accessorio del bandit E in ottima posizione invece ci spostiamo sul lato troll perché abbiamo con lo 0,010% abbiamo lo sledgehammer appunto di sledge Il martello di sledge Qui ovviamente ragazzi non si fanno kill col martello di sledge a meno che non vuole trollare un nemico che magari è in ferimento Oppure quando prendi da dietro un nemico che vuoi trollarlo calci il martello di sledge e lo uccidi con quella Infatti sono molto molto rare le uccisioni con il suo martello Nona posizione invece con il falling con il cadere da tetti ovviamente si tratta quindi di cadere e morire da tetti Con lo 0,08% troviamo appunto il cadere da superfici abbastanza rialzate appunto da farsi male In decima posizione invece abbiamo con lo 0,02% la morte fuori dalla zona Per esempio i nemici che vogliono sponchillare quindi vanno all'esterno della casa della mappa eccetera eccetera E muoiono inasarabilmente cercando di sponchillare Per ultimo in undicesima posizione c'è con lo 0,01% i goo di legion Quindi la morte causata dai goo di legion E questo è ovvio perché i goo tolgono 8 punti vita 8 hp ad ogni goo Quindi il nemico deve essere proprio one shot per morire da un goo ovviamente Quindi la morte da un goo di legion è veramente rarissima da vedere Bene ragazzi comunque con questo è davvero tutto Spero che il video vi sia piaciuto È stato un video appunto vi ho detto abbastanza particolare Era diverso dal solito ma mi sembrava abbastanza simpatico da portare Ho visto queste immagini su Twitter Ma può essere uno spunto appunto Uno spunto appunto scusate il gioco di parole Per il video e quindi ve l'ho portato Fatemi sapere con un bel mi piace se vi è piaciuto il video Fatemi sapere anche con un commento Condividete qui da MrRuke e tutte Noi ci vediamo con un prossimo video Ciao 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 Ciao